Ciao carissimo chef Nunzio, ti voglio lanciare una sfida. Devi sapere che le mie origini sono venete e da noi c'è un determinato tipo di piatto che noi facciamo abbastanza spesso, specialmente in inverno, e che ci viene benissimo di una bontà assoluta. E vorrei mettere alla prova la tua bravura. È un piatto semplice, abbastanza veloce, ma noi lo facciamo in un modo un po' particolare, almeno nella mia zona. E vorrei mettere a dura prova la tua bravura. Questo piatto si chiama pasta e fagioli. Quindi la pasta e fagioli, un piatto povero, semplice, ma molto buono. Ora, io lo faccio, come ti ho detto prima, in un modo abbastanza particolare. E so che viene molto, ma molto buono, perché me lo chiedono proprio di farlo. Vediamo a te come lo sai fare. Se accetti la sfida, vero, dolentieri a curiosare, a vedere come tu l'hai preparato e poi lo preparerò anch'io. Ti mando intanto un grosso bacio e un grande abbraccio. Ciao!